Grazie a tutti, sono Marco, sapete cosa credo? Credo che la vita sia meglio se hai un computer. Ho lavorato qui nella cultura per 7 anni. Qui produciamo alternatori, e siamo un gruppo grande. Ma cosa è alternator? Alternator è un macchina elettrica che converte energia meccanica in energia elettrica. Ci sono diversi tipi di generatori elettrici, come l'alternativa, 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 l'alternativa e l'alternativa. In generale, alternatori sincroni consistono di due parti, stator e rotator. I alternatori sincroni lavorano sul principio della legge del paradigme elettromagnetico. Un dispositivo di regolazione di voltage automatico controlla l'alternativa. Hai saputo che i alternatori sincroni usano l'alternativa nucleare, termine e hydropower per generare i voltaggi? Devo dare ai miei colleghi Simone più dettagli. Ciao, sono Simone e il mio motto è «Towards the best, without losing strength and smile». L'alternator funziona in gruppi internazionati con un motore primario, assicurando la trasformazione di energia meccanica in energia elettrica. L'alternator sono usati in molte applicazioni, per esempio in piante di potere che producono energia elettrica per usare industriale e domestiche. Le differenze applicazioni di alternatori dipendono dal voltage che producono. L'alternator funziona sull'alternator che operano in pompa di idraulica, sulle turbine, sulle planta di idroelettrica, sulle facility hospital, sulle aeroporti, sulle avanti e sulle navi. Siamo Valentino e il mio motto è «Just what you need, when you need it». Meccalte fu originally established by Mario Carralo in 1947, in Alte, un piccolo village in Vicenza, in Italia, come un workshop per i motori elettrici. Siamo continuamente evoluzionati dal nostro inizio in una brand globale, con i fabbrici e i luoghi del mondo. Siamo orgogliosi di essere famigliati e in controllo del nostro futuro. In 1978, dopo il suo successo, la firma si è riuscita a una facility di produzione specialistica in Creazzo, dove i suoi proprietari e i principali fabbrici sono ancora locati oggi. Dal 1988 al 2014, abbiamo ottenuto 7 planti di produzione per aumentare la nostra tecnologia di gruppo di tecnologie all'interno del mondo, dove circa 1.000 persone funzionano. L'anno scorso, nel 2017, Meccalte celebrò il suo anniversario 70. Inizio, abbiamo cresciuto in una brand globale, con la industria generazionale, con il servizio mondiale, con i servizi mondiali e con i prodotti innovativi, e con i prodotti innovativi. Sono Giancallo e il mio nome è il link in Meccalte, con il resto del mondo. Il nostro manufattore ha iniziato nel U.S. dal 1997. Meccalte, U.K. è il primo subsidiario abbandonato, poi abbiamo Meccalte, China, inizio dal 2008, e l'ultimo anno è Meccalte, India, inizio dal 2010. L'anno scorso, abbiamo festeggiato il 10 anniversario di Meccalte, China. Abbiamo iniziato un workshop per aumentare la capacità di produzione, sia in China e in India. Ciao, sono Marco, e il mio motto è «next generation power». Meccalte e le macchine manufatture sono considerate moderni, moderni e moderni. Ogni anno, Meccalte investe in ritagliare il catalogo di macchinari. Questo anno, abbiamo il focus di una nuova serie Type C, in modo da dare ai nostri clienti un esercizio e un esercizio più potente per le macchine. Con un modello fluido e dinamico, abbiamo migliorato il calcio e ridurato il peso e il peso. L'alternatore Type C esploita la maggior parte della conversione per produrre il massimo potere. Questo tipo è uno dei alternatori di design post per assemblare e configurare, rendendo una considerazione di riduzione e di produzione. di meccalte. Ciao, sono Roberto. Il design è la mia priorità. In Meccalte siamo totalmente focussati. La nostra azione, la nostra energia sono tutti concentrati in una direzione, migliorando la performance e il design dei nostri alternatori. Uniche persone lavorano insieme per fare un approccio paventare al nuovo design di C Type. La serie di C Type cover 4 product line con 6-8 modelli per ogni. As mio collega Marco ha già detto, il C Type rende la maggior parte dell'energia per produrre il massimo potere per la razza di dimensione. Questo significa meno materiale e beneficio per l'ambiente. Con il nuovo C Type abbiamo migliorato tutto, insomma l'estetica. L'alternator è ora molto più formato per vedere. Vogliamo solo il migliore e il C Type è la nostra risposta. Ciao! Sono Andrea e qui in MAP faccio il mio migliore ogni giorno. La fabbrica Montechio Maggiore è dedicata ai generatori elevati per dare energia direttamente ai metodi di misura o ai sistemi di backup. In MAP ci troviamo tutti gli aspetti della produzione dei generatori elevati elevati dall'inizio del design usando le nuove tecniche e tecniche all'assemblea e testare la macchina. La produzione della macchina comincia dall'elettrica nella zona di più dedicata in alto e dedicata. Queste parti elettrici sono insolati nel speciale luogo che eliminano tutto l'errore dentro del coper e impregnano con un risino speciale. Tutte le parti vengono all'area dove lavoratori scolari assemblano tutte le parti della macchina in order to meet our customer requirements. The final stage before we deliver the machine is testing all the electric and mechanical aspects to assure high quality standards. Hi, I am Mattia and my motto is work hard dream big. In MAP we are the only make-out plant producing medium and high voltage alternators. The high voltage is required when the power must be transported over long distance. From the mechanical point of view the mechanical and high voltage alternators are the same as low voltage. The main differences are in the winding the health of the machine. In these machines the insulation materials are very important to avoid the sparks in the air that can damage the machine and increase the risk of explosion. of the machine I am Daniela and my motto is new eyes new journeys. Zanardi Alternatori was acquired about 22 years ago by the McAlte group with the aim of designing and producing customized alternators. During this period it has 100 specific markets such as welding, CHP, marine, military, low voltage machines. In the last two years we have developed a new product named PMG Sirius with a power range from 5 to 20 kVA. Commitment and passion of our people make Zanardi growing year by year. all the deals with a stronger Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.